Dal libro delle recensioni di Lord Gaben, rendiamo grazie a Dio. Corre l'anno 102. La fortezza gode di una scorta di cibo stabile. Accesso all'acqua, guardie addestrate e possiamo andare fieri di non aver avuto vittime, fino ad ora. Scatta un allarme. Ladro, rapitore di bambini. Questa sarà la prima occasione per provare le nostre difese. I nani sono pronti. Il goblin ladro di bambini è venuto con altri due scagnozzi. Si dirigono rapidamente verso il cancello principale della fortezza. Viene suonato l'allarme che raduna tutti i nani dentro il cancello. E il ponte elevatoio si alza. Un paio di nani, assieme alle guardie del cancello, rimangono fuori. Si tratta dei responsabili della sorveglianza delle torri di guardia. Ma ora è più urgente proteggere i bambini. Alla fine, la milizia si sbarazza dei tre goblin e viene abbassato il ponte elevatoio per far rientrare i nani e festeggiare. Passano alcuni giorni e i nani si accorgono che manca qualcuno. Una bambina di nome Aban Stigazezum, di appena un anno e nessuno l'aveva vista dal giorno dell'attacco. Faccio su e giù più volte lungo il perimetro di difesa, ma non riesco a capire cosa si è successo. Avrei giurato che c'erano solo tre ladri e che erano tutti stati uccisi. Sapevo dove erano sepolti i corpi. Sei mesi dopo, io e i nani ci eravamo lasciati la vicenda alle spalle. Una notte, guardando oltre le torri di guardia, noto un estraneo. Un nano verde, senza vestiti, in piedi accanto alle guardie regolari. Vado a controllare ed era Aban. Aban era tornata come fantasma per reclamare vendetta su coloro che avevano permesso che fosse rapita. Ad Aban piace fluttuare silenziosamente su e giù per le torri di guardia, attraverso muri e pavimenti, perseguitando di tanto in tanto anche le guardie del cancello principale. Forse lì in colpa per la mancanza di sicurezza. Alla fine, dopo qualche altro mese di convivenza con un fantasma inquietante ma innocuo, trovo finalmente il tempo per scavare una tomba. Non avevo un corpo per una degna sepoltura, ma a esporre una lapide commemorativa in nome di Aban, dovrebbe farla riposare in pace e tranquillizzare le guardie. «Hanno imparato, Aban, non lasceranno mai più entrare un ladro nella fortezza». Poso la lapide e Aban, finalmente soddisfatta, riposa per sempre in pace. «Osservo la lapide per vedere cosa ha scritto l'incisore». L'epitaffio recita «In memoria di Aban Stikazezum, nata nell'anno 102, schiacciata da un ponte-elevatoio nell'anno 102». Immagino di sapere dove trovare i resti.